Non può sposarmi, lei mi ama. Ma io amo Dio di più. Un peccato, una storia d'amore di dieci anni fa, ma tanto basta per far parlare spettegolare una città di provincia come l'Aquila. E così, una storia d'amore di dieci anni fa, appunto, viene fuori in questi giorni dopo una sentenza e turba cittadini e crea anche imbarazzi alla diocesi dell'Aquila. Padre Ralf, in questo caso, è Don Vito, un sacerdote finito nella bufera per la storia d'amore che ricorda tanto uccelli di rovo, ma con una donna sposata, scoperta e denunciata dal marito tradito. Una storia vecchia che risale a quando il parroco viveva a Roma, poi un percorso spirituale che di fatto lo ha riabilitato e l'è venuta all'Aquila. Il perdono, appunto, che come esiste per tutti gli uomini, vale, diciamo noi, anche per i sacerdoti. E così Don Vito, divenuto poi all'Aquila uomo di fiducia del vecchio arcivescovo Monsignor Giovanni D'Ercole, si è riabilitato dopo un percorso, immaginiamo, anche doloroso e spirituale. Don Vito è un sacerdote che sa di aver infranto una regola, ma che poi ha avuto un percorso per capire se lasciare gli abiti talari o rimanere nella chiesa. Un cammino nel quale è stato seguito. Uscita fuori questa vicenda, ovviamente, la curia si è trovata costretta a dover dare delle spiegazioni, con una nota diffusa ieri, e forse a dover prendere delle decisioni, anche se poi Don Vito, in città, ha operato benissimo e si è fatto apprezzare anche nelle parrocchie aquilane. Tant'è che basta leggere i commenti della gente per capire quanto affetto abbia intorno. Insomma, Don Vito dalla gente è perdonato. In tutto questo, Don Vito è rimasto all'Aquila, ma chiaramente non commenta. C'è anche da dire che Don Vito stesso, immediatamente dopo l'uscita delle prime notizie di stampa, ha contattato l'arcivescovo Petrocchi, dimettendosi dai suoi incarichi, cosa che un prete ha fatto, ma che ogni giorno i politici, ad esempio, ci insegnano a non fare. Per carità, esistono delle regole, come in tutti i campi, che vanno rispettate. Chi sbaglia paga e se ne assume le conseguenze, come il sacerdote ha fatto e probabilmente farà.